A tutti questi musicisti, a tutti i miei compagni d'avventura di tutti questi anni e anche a quei nuovi musicisti che stanno prendendo il nostro posto e ci permetteranno di andare in pensione tranquilli, con la coscienza a posto. Grazie anche a tutti voi per aver partecipato a tutta la serata. Noi ce l'abbiamo messa tutta, noi e i gruppi che ci hanno preceduto, che hanno suonato, abbiamo fatto tutto il possibile, questo è sicuro, ma senza di voi la riuscita non sarebbe stata perfetta. Quindi grazie. E già che applaudite, un grandissimo applauso a Sara, Sara Marchetti e anche a Marco Galvagno e a tutti quelli che hanno organizzato il service, l'audio, le luci, tutti quelli che hanno suonato, che hanno messo i banchetti, che hanno partecipato. Dai, dai, stand in ovation, vai, 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 vai. Dai, su, a Nemu. E a proposito di banchetto, ne abbiamo messo uno là con tutti i nostri cd, magliette, gadgets, c'è di tutto, vendiamo tutto, per cui se qualcuno è interessato, la infondo, ok? Grazie, grazie infinite ancora e a presto da Paolo Bonfanti, Roberto Bongianino e Alessandro Pelle. Se qualcuno non è stanco, noi, anzi io, domani sera, sono la marina dell'aeroporto con la rosa tatuata. Quindi tornate tutti, così ci rivediamo e continuiamo là, ok? Questa si chiama Oguin Piaget, che te voglio domandare. Buonanotte, alla prossima. 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 e cazza o kühne da usci Stammati fidi biaù tu me è venuto a cercare stamattina e vittoria tu me è venuto a cercare tu mi ha piaccio a portare ma di quando ad andare nuca dei pernubela e nuca manco sei nuca dei pernubela e nuca manco sei consegui sair dela bella o seu mozé frio le passò tu maules a virgini frio le passò tu maules a virgini pitimestre assim e porto via o belè ciao a presto a domani